Io racconto prevalentemente, anzi quasi esclusivamente, un'Italia di provincia che credo sia l'Italia maggioritaria. Se togliamo Roma e Milano credo che i contesti metropolitani nel nostro paese siano pochi altri. Quindi l'Italia di provincia è un'Italia ricca, padana, di una città del nord, una città che rappresenta un po' la medietà delle piccole e medie città italiane e che però adonta della sua immagine di zona tranquilla, di vetrina pacifica è un'Italia invece molto turbolenta dove si manifestano le contraddizioni sociali più evidenti a partire dalla differenza tra ricchi e poveri che sta aumentando anche nelle zone ricche, quindi crea tensioni e poi per via delle infiltrazioni, della malavita organizzata che investono nelle zone ricche quello che è il plus valore che ricavano da attività illecite altrove. Un pezzo d'Italia che racconto io, che comunque rappresenta come dicevo una fetta consistente del nostro paese, è cambiata nel senso che in particolare sono venuti meno determinati valori, quello per esempio della solidarietà e della coesione sociale che in Emilia era molto forte per esempio e che mano a mano sta sciogliendosi, sta sbriciolandosi e questo ovviamente comporta una società più individualistica, una società che anche proprio per questo è più portata e ad essere infiltrata e ad avere una minor tenuta, una minor vigilanza e ad accentuare quei valori di autoaffermazione che spesso poi portano anche a produrre il delitto certe volte. Il ruolo del scrittore come lo interpreto io è legato molto alla mia concezione del giallo, all'idea che ho io del giallo e che per esempio credo sia ben esemplificata in questo romanzo è solo l'inizio Commissario Soneri. Il giallo ha una capacità molto forte di entrare dentro alla realtà di oggi, attraverso che cosa? Attraverso un delitto, un delitto è un sommovimento del nostro vivere, è una perturbazione del nostro vivere e se ci si pone dalla parte, se si pone la domanda non di chi è stato a uccidere ma di perché è successo, allora si va alla ricerca di quella che è la genesi di questa malattia che chiamiamo male, cioè è come l'operato di un medico, di un chirurgo, a partire da un sintomo si va a cercare quello che l'ha prodotto. Ecco, il giallo per me l'indagine ha una grande capacità di scavo archeologico dentro la vita di una persona, in questo caso di chi è stato ammazzato e alla ricerca di quello che ha prodotto questo omicidio, però scavando sulla vita di questo individuo alla fine si scava sulla vita e sulle contraddizioni di un'intera società che produce quelle cose e allora vengono a galla tutta una serie di tematiche che attraverso questo genere narrativo sono messe bene in evidenza, per cui credo che lo scrittore oggi sia quello di essere politicamente scorretto, cioè di rompere la crosta di conformismo che ci viene ammanita e di andare a cercare invece le cause del malessere, del nostro male di vivere. Si può essere politicamente scorretti anche con i mezzi audiovisivi, però la televisione per esempio no, secondo me no, non lo sta facendo questo ruolo di mettere in discussione l'apparenza, anzi forse la televisione la produce l'apparenza, il cinema no, il cinema è molto più vicino alla scrittura perché ha qualcosa di eversivo, fra virgolette, cioè è qualcosa che sommuove, che va controcorrente, che non è accomodante, non è tranquillizzante.